Per il quarto anno consecutivo l'amministrazione comunale di Eboli conferma l'ordinanza contro l'utilizzo dei fuochi pirotecnici. Il provvedimento ha l'obiettivo di evitare i numerosi infortuni determinati dall'utilizzo di prodotti esplosivi sulla base dell'oggettivo pericolo riscontrato anche nel caso di impiego di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. Facciamo appello al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva spiega il primo cittadino Massimo Cariello affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze che l'utilizzo dei botti può avere per la sicurezza.